Bella a tutti ragazzi, sono GabrielDark98 e oggi siamo qui con il nostro secondo pack opening. Oggi apriremo tre pacchetti da 7500 e niente, apriamo il primo, copertina Zard, skipiamo, Caicedo, Manolas, la maglia del Salzburgo non è male, non è male, niente, la resta me la tengo, ok, il resto vendi tutto, il primo pacchetto è andato di merda, apriamo il secondo pacchetto, è il Pepita, non skipiamo stavolta, se lo guardiamo tutto, Walcott, non so quanto valga, Paloschi, non male Walcott, non so quanto valga, quindi era lì, il resto vendiamo tutto. Il pacchetto è andato così e così. L'ultimo pacchetto da 7500 messo in copertina, questo lo skipiamo, lo skipiamo e troviamo di Cesare ragazzi. di Cesare, che schifo, la maglia della Fiorentina che tra l'altro, tra l'altro stasera ci sarà Roma-Fiorentina, quindi scartiamola. Scartiamo in diretta così, non ci porta fortuna. Il resto possiamo vendere tutto. E niente ragazzi, il video finisce qui, se volete altri episodi fatemelo sapere e lasciate tanti mi piace. Bella.